SINISTRA 7 SINISTRA 6 meno, persì sinistra 7, con destra 7, diventa sì 4, vai corta, diventa taglia 4 lunga, persì sinistra 7 e destra 2 più, apre subito 3, tenere con sinistra 2 più, 30, sinistra 4 su salto, apre 40, sì destra 2 vai corta. 4 tieni, con occhio 3 di taglia, corta 6A, 80, 3D, open, 4A, diventa 6, 50, 4D, con 6A, e corta 6A, 20, 6D, e clap 5D, con 5A di stop, e no, 4D, e scivola 3D, con 5A, e no, 3D lunga, scivola, scivola molto, con 3A secca. A 5, 15, a 3 meno tieni, 3 meno tieni, in, no, destra 3, 220 a vista. No, destra 4, no, destra 4, 200, accenno sinistro, 180, destra 4 più, 20, accenno sinistro, 250, accenno destro, in a 5, 40, accenno destro in a 5, 40, no, destra 5 secca. In a 5 meno meno, in accenno destro, 40, no, destra 4, no, destra 4, 40, destra 4 meno tieni, chiude, 20, a 5, 15, no, destra 3, no, destra 3, 10, no, destra 3, in ritardo a poco, a 3 apre, ritardo a poco, a 3 apre, 100, a 5 lunga condosso, 100, no, destra 3, no, destra 3, 80. Rai, destra 3 più, occhio no, subito sinistra piena, con sinistra piena, con destra piena, subito sinistra piena, per no, destra 4, stringe, subito attenzione, no, sinistra 4, stringe, subito destra piena, tonda chiude, 3 più, no, per destra 3, subito sinistra 3 più, per no, destra 2 più, tonda apre, non frena, subito sinistra 2 meno. Grazie a tutti.